Un'articolata indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Sesso San Giovanni in provincia di Milano ha permesso di svelare l'esistenza di un'organizzazione dedita al riciclaggio di proventi illeciti derivanti da una frode fiscale nel settore dei servizi alle imprese, che coinvolgeva a vario titolo 9 persone fisiche nonché 18 società situate in Lombardia, Liguria, Puglia e Calabria, attraverso cui venivano illecitamente veicolati i flussi di denaro. Gli accertamenti investigativi si sono concentrati su una società brianzola operante nel settore dell'imballaggio e confezionamento che si è rivelato un vero e proprio epicentro di una fitta rete di numerosi altri soggetti economici operanti in molteplici settori, dalla logistica ai trasporti ai servizi di pulizia e alla sicurezza, i quali, basandosi sull'emissione di fatture false per 50 milioni di euro e il mancato versamento di contributi previdenziali, riuscivano a fornire ai clienti finali in mano d'opera a prezzi nettamente inferiori a quelli di mercato. Gli incassi poi venivano riciclati attraverso il trasferimento di somme su conti correnti intestati a soggetti compiacenti, che venivano poi prelevati in contanti e riconsegnati agli artefici della frode.